noi tre in particolar modo marco ancora è salvo da questa situazione abbiamo una passione in comune già capito vedo da come sei armato i piedi io simo parliamo spesso di questa cosa che poi sono le sneakers che è riportato nei due quadri dalla mag all off white alla di or eccetera arriverà mai un air force one fugazotto non dovete chiederlo a me non dovete chiederlo a me io avrei sarebbe già la sesta settima edizione arriverà mai o no arriverà allora intanto ma io te l'avevo già detto ma lo diciamo a tutti surfa è l'unico colpevole del mio infossamento per sneakers perché io prima mi piacevano le ho sempre amate ma era le compro le metto e compro più di quanto ne posso mettere però comunque nell'ottica della della logica è arrivata la sua ho visto il suo mondo soprattutto sono venuto a casa tua mangiare mi sono reso conto che mangiare era una parte secondaria in casa perché ovviamente tutte le vetrine le cose mi sono appassionato sono comunque oggetti straordinari il punto più alto della mia esistenza potrebbe essere ad oggi che ho fatto tante cose che volevo è la sneakers con la mia arte sarebbe veramente un punto alto e creare un oggetto che racchiude tutta quella magia succederà sì perché sarebbe peccato non accadesse vabbè una è prenotata sicuramente però insomma noi facciamo certi viaggi caspita in casa mia capita di doverle ogni tanto discutere perché rispetto alla vostra organizzazione da vetrina ok io sono un'organizzazione da confusione cioè io devo inciampare nelle sneakers devo inciampare cioè io devo guardare la tv e spostarle cioè devo che ne so alzarmi per andare in bagno e saltarle cioè devono essere intorno a me e devono essere intorno a me secondo un ordine che richiama o l'utilizzo appena effettuato quello che verrà effettuato il giorno dopo devono star lì perché devono abitare con me devono aver calpestato i miei problemi le mie soddisfazioni e quindi devono rimanere non possono uscire dal cammino e devono esistere lì e quindi guai chi me le tocca possiamo fare ogni tanto un po d'ordine dopo magari un mesetto allora riparte il mese successivo con un altro percorso condiviso con loro quello sì che percorso vero percorso e soprattutto guai chi le mio perché devo litigare per le mie sneaker che sono mie ci sarebbero altre cose da dire per il quale perché devo litigare io potrei prendere le parti di qualcun altro ma non lo faremo però quello è veramente il percorso sei tipo pollicino che lascia i pezzettini e come sono sneakers a casa di lele come si incrociano dove si orientano le punte ma stiamo scherzando devono essere lì devo vederle dobbiamo connetterci sempre e sono veramente opere d'arte ma ci avete una preferita cioè il modello iconico preferito guarda ce n'è una che abbiamo abbiamo entrambi che abbiamo tutti e tre tra l'altro che per me è la chicago of white per me quella che pure ho messo in un in un'opera e mi ricordo lele l'aveva portata ancora in via savona quando io ho il primissimo studio è rivenuto anche tu e mi ricordo e ho visto questa scarpa e non sapevo niente lui me l'aveva detto ma io non avevo idea e senza sapere niente mentre da collezionista un po ti fai ingabolare dal fatto che molto rara cioè parlavamo della trevi scott cioè io inizialmente vedo la trevi scott ma fratello la io lo sa vedo la prima trevi scott e dico è sgraziata perché a livello di struttura artisticamente quel logo al contrario perde dinamicità e invece da collezionista penso in grado malato però lui viene con questa off white io dico quella è una scarpa straordinaria non sapendo niente quindi per me quella è la scarpa la sneakers migliore io condivido invece vogliamo magari cercando di ricordare l'anedotto di quest'estate eh adesso si bisogna raccontarlo però vai c'era vamo a lignano ed eravamo lignano un bellissimo negozio lo possiamo dire no non lo possiamo dire però lo possiamo dire c'è una scarpa che in pochi istanti è stata mia cioè l'ho ottenuta grazie a lui onestamente è stato lui che mi ha spinto ad ottenere quella scarpa che poi è stata una scarpa che per tanti hanno votato scarpa dell'anno ma però io non mi sono innamorato subito ma ti sei fidato perché bisogna fidarsi cosa diciamo bisogna il compagniero bisogna fidarsi bisogna fidarsi bisogna fidarsi anche oltre diciamo così la considerazione di ciò che è giusto se la persona merita dato che tutti intorno a me mi imputano il fatto che per me qualsiasi cosa che dice lui va bene c'è nel senso io lui lo metto sopra ogni ragionevole dubbio nel senso che lo trovo quasi perfetto nel senso capito allora dico se simo pensa che sia la scelta giusta andiamo su quella scarpa era quella io ho detto però ribadisco l'ho detto in era un po più colorita cioè ho detto a questo punto forse però devi usare la terminologia giusta io ho detto quello ho detto non solo non mi piace ma mi fa schifo di questa scarpa sto male ok però ti sei fidato perché portandola ho cambiato idea portandola in questi mesi almeno cinque o sei volte ho cambiato idea quindi chiedo scusa a che scarpe di chi è chiediamo scusa chiediamo scusa alla jordan 4 era la pine green che io lo sapevo che immaginavo era quella lì io gli dico frate questo che c'è disponibile ma questa è nettamente la scarpa poi che ti manca che ti manca poi ho capito perché e quindi lui mentre usciamo in quel viale in quell'estate bellissima mi dice ma sai fratello ma non è che non mi piace io dico che cazzo vedi che l'ho subito convinto che mi fa proprio schifo però però vedi però posso dirti a me manca nella mia collezione perché anche a me non mi ha fatto impazzire eccolo non sei fidato non sei fidato attenzione bisogna arrivare qua a parlarne dovevamo parlarne qui domani vado esatto esatto quindi col tempo ho cambiato mi piace soprattutto sui pantaloni larghi quindi sì comunque si è un capitolo che ci vede molto appassionati e poi l'ho messo nelle mie opere cosa che non avrei pensato all'inizio vedevo l'arte come un luogo veramente troppo sacro per essere diciamo toccato da queste passioni come può essere anche l'inter noi abbiamo fatto un'intervista una volta per il blog se ti ricordi come no che dove dove surfa mi chiede faresti mai visto che sei interista inseriresti l'inter in una tua opera io ho detto no perché quella passione viscerale se in quel momento io non la connettevo con questa passione invece altissima invece poi negli anni li ho le ho mischiate quindi l'inter entrata a far parte anche se molto laterale di un'opera e le sneaker sicuramente più volte lele ora ti volevo fare una domanda personale volentieri l'avrei chiesta fuori dal podcast però penso che possa essere utile anche le persone che che ci ascoltano io un anno fa ho visto un tuo post che mi ha colpito che era quello della barba e tu hai voluto ricordare tua mamma con quel messaggio lì molto bello che hai tagliato la barba dopo dieci anni io purtroppo come te ho vissuto un lutto del genere improvviso e faccio fatica a metabolizzarlo quindi per me ma anche per tutti quelli là che si trovano in una situazione del genere che perde una persona loro cara come l'hai superata se l'hai superata e che cosa diresti per superarla c'è una sorta di magia che si rivela in maniera profonda intensa e inspiegabile se non nella fede che mi accompagna costantemente nelle mie azioni la fede richiede anche sacrificio perché ti richiede giustizia fermezza e fedeltà e credo che sia secondo me la fonte più tangibile e costante d'amore se tu ti fai abbracciare dalla fede accadono delle cose magiche e accade una cosa che nel dolore più grande c'è questa sorta di trasformazione e la persona che più è amato che più è stato importante e non solo perché era mia mamma ma che è stata la miglior persona che ho conosciuto nella mia vita possa arrivarti in altre forme e di senti il segno e il suo messaggio la sua carezza ovunque e costantemente ed è accaduta esattamente dal giorno che mi ha lasciato e la ritrovo un quello dico sempre nella brezza matutina in una tazza di tè in una canzone in un abbraccio e proprio c'è questa evoluzione che è costante ed è una compagnia non solo nel quotidiano ma molto 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 forte e riconoscibile non solo la sua partenza mi ha reso un uomo migliore perché ha rivelato in me forze che non pensavo di avere però le trovi attraverso una connessione costante che che si chiama fede che rivela l'amore e l'amore veramente ti fa fare delle cose come la parola più usata molte volte abusata ma se gli si dà il valore giusto l'amore veramente ti permette di attraverso la fede di vedere cose che non puoi vedere semplicemente con l'occhio quindi io posso dire che se ci si abbandona l'amore e si cerca interiormente la persona che ci abbandona probabilmente in maniera totalmente ingiusta riesce a ritrovarla in mille altre situazioni del quotidiano e ci completa ci migliora ci si presenta noi con una forza in più ed è quello che accade costantemente con mia madre e quindi proprio per questo vai oltre tra virgolette non è mai stato un problema per me e l'imbarazzo il trasferire le mie emozioni i miei sentimenti la mia storia condividerla con tanta gente che che mi segue e mi vuole bene anche con chi magari non mi vuole bene che però può avere una parte di me che non pensava che pensava di non conoscere quindi non è mai stato un problema però proprio questa sorta di presenza costante di messaggio ti fa trasformare ti fa condividere anche l'atto più doloroso che diventa come per magia un incredibile unico atto d'amore grazie 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 e tu simo hai vissuto un momento comunque difficile ovviamente non paragonabile magari a questo però legato a un una commissione che ti ha fatto nel 2019 la serie a di un quadri contro razzismo e ovviamente il tuo protagonista delle tue opere sono le scimmie ti hanno appunto uscita una grossa polemica a riguardo e come hai vissuto quel quel momento ti volevo chiedere che comunque è stato immagino tosto difficile incomprensibile cosa appunto vuoi dire a riguardo ecco questo sai perché tosto e tosto perché io sono cresciuto che sono stato adottato dagli stati uniti perché ho deciso di lasciare milano quando per me e in generale milano non viveva un bel periodo quindi io arrivo negli stati uniti vado a vivere nel queens perché non ho soldi vengo abbracciato dalla comunità nera abbracciato sostenuto faccio un certo tipo di percorso dove vivo costantemente quotidianamente le loro problematiche quindi il razzismo che vivono giorno dopo giorno chiaramente l'ho fatto mio quel dolore e oltretutto mi ha fatto male perché oltre che raccontare questo tipo di difficoltà tutta la mia cultura cultura nera cioè se io ci penso il mio giocatore di basket preferito è Michael Jordan c'è Mohammed Ali che è un riferimento per me non parliamo di Tupac Notorious nella musica Miles Davis io dipingo quasi solo con Miles Davis Spike Lee Spike Lee He Got Game che è proprio il film mio perché c'è il rapporto col padre che appunto che ho perso abbastanza giovane quindi c'era quell'amore odio anche con mio padre quindi io proprio sono bianco ma mi sento nero e forse è stato questo abbassare le difese in un'epoca in cui il politically correct la fa da padrona e nell'arte non può esistere non può esistere il politically correct perché se no un artista non si può esprimere perché è grazie grazie a qualcosa che stride che tu fai un pensiero qualcosa che azzarda qualcosa che ti graffia e che quindi tu pensi a come come guarire se no e nulla ti ti fa mai male nulla ti colpisce mai e quindi l'arte non può sottostare a questa logica e quando la lega calcio mi fa questa cosa e mi sento onoratissimo perché dico caspita è proprio la mia occasione e da poco c'erano lanciato le banane mi ricordo a Neymar e a Dani Alves lo ricordate loro avevano fatto l'hashtag tipo we are old monkeys qualcosa del genere che era perfetto l'ho visto proprio come percorso cioè tracciato ho detto caspita siamo tutti scimmie è vero non importa che pensiamo se siamo pensiamo che siamo tutti esseri umani o tutti scimmie l'importante è l'uguaglianza hai capito quindi ho pensato caspita è proprio la cosa che voglio fare cioè fare e lì ci sono le tre opere originali quindi le tre etnie principali inscritte in un pallone che ha un design un'estetica diversa come queste come le razze ma che rotola nello stesso modo quindi le emozioni le tristezze che possiamo condividere le malinconie della nostra vita sulle stesse ci accomunano non è stato capito e ha fatto un grandissimo scandalo internazionale che retrospettivamente il più grande assist alla mia arte del che mai succede mai mai successo nel senso che ovviamente io sono preso una celebrità una notorietà clamorosa però ne ho sofferto perché mi sono arrivate per la seconda volta nella mia vita minacce di morte e minacce in generale quindi quel solito vomitare poi simo posso la roba si è assurda che tu hai dipinto quelle opere in diretta durante la coppa italia maggio e lo scandalo nasce a dicembre perché perché è scollegato quando io lo faccio nessuno se l'accorge trasparente come se non fosse mai esistito poi dopo mesi la lega ha avuto dei problemi sul tema del razzismo mi ricordo dei fischi dei fischi forse a cagliari poi avevano detto abbiamo spento i microfoni perché per far sentire gli insulti quindi che cosa è successo che la lega ha detto aspetta un attimo andiamo a recuperare fuga sotto che è andata bene come messaggio perché per tanti soprattutto nel mondo della politica se non succede niente una cosa positiva perché non c'è terremoto e ovviamente è successo tre volte il terremoto che poteva succedere quindi mi fanno fare una conferenza stampa proprio a supportare una causa che in quel momento era in difficoltà scelta la mia opera per la seconda volta per supportare la causa del contro il razzismo succede una grande polemica e qua va detto il palazzo del calcio un giorno dopo un giorno e mezzo dopo di questo grande frastuono mi chiama mi dice noi ci dobbiamo non mi viene neanche la parola mi ci dobbiamo dissociare che è una cosa che per me è incomprensibile incomprensibile primo perché l'hanno commissionata loro e quindi ovviamente l'hanno rivista cento volte e poi e poi non puoi dissociarti mai da una scelta che fai dal mio punto di vista perché ci metto talmente tanta passione che sennò non lo faccio come il quadro del padel certo perché non vorrei trovarmi nella situazione di dire quello non lo devo fare se lo faccio perché ci credo al cento per cento e quindi in quel momento e questa è la grandezza di essere un artista e non dover rendere conto nessuno mi sono preso sulle spalle tutte le insulti e ho detto la responsabilità è mia la lega calcio non c'entra niente l'artista sono io prendetevela con me ed è stato incredibile comunque un delle montagne russe che non auguro a nessuno ma che poi retrospettivamente mi hanno portato un sacco di notorietà sono un artista e sono un uomo essere un uomo assolutamente prima dell'artista c'è l'uomo che non si sposta di un centimetro quando tutti e veramente tutti ti dicono che è sbagliato che è troppo era troppo presto invece non era troppo presto magari a troppo tardi perché una cosa del genere negli anni 90 andava bene ma siamo in un'epoca in cui tu non puoi dire non puoi fare una cosa che pesta i piedi e poi siamo anche nell'epoca di internet che metti simone fuga sotto e vedi che fa degli autoritratti con le scimmie self portrait con la scimmia sono io che mi vedo scimmia in prima istanza quindi è proprio incomprensibile lele simo ha parlato di scelte scelte al cento per cento tu hai mai mai avuto qualche rimpianto adesso da ex calciatore che magari avresti fatto all'epoca che pensi avessi fatto magari guarda non in quest'ottica però cioè non che quello che ho fatto non l'ho fatto pienamente conscio e quindi da poter poi rivendicare un errore semplicemente sono gli sliding door cioè ragionare su cosa sarebbe potuto essere e allora c'è stato un momento secondo me è cruciale anche della mia carriera che è stato esattamente nel 2004 quando vado via dall'inter quell'estate io avevo avevo tre richieste ed era una in generale un sommandato all'estero e questo anche perché l'ho voluto io avevo altre alternative ma probabilmente questa è stata una mancanza cosa che se uno pensa vent'anni dopo invece quanto è utile per cultura apertura mentale andare anche anche professionalmente a livello proprio calcistico e far parte di altri campionati fermo restando che adesso il nostro nel campionato migliore però al benfica con trappattoni allo Shakhtar Donetsk con Lucescu mi chiamarono mi volevano assolutamente e poi Shakhtar Donetsk è diventato poi quella squadra che ha vinto tanti titoli ha portato tanti brasiliani Lucescu ha cambiato il calcio in Ucraina e trappattoni vinse poi quel campionato col benfica dopo dieci anni che il benfica non vinceva ci metto però questa chiamata che è quella di carletto mazzone a bologna che il romano mi dice ciao io ci avrei bisogno di uno dei capelli lunghi che mi venga a comandare la difesa mi disse così sì io tornai a Brescia per amore venni tradito sia dai tifosi che da chi era in società a quale serviva un capro espiatorio tipico dei miserabili ok quindi persona che guadagna magari un po' di più tra i tre e quattro della squadra tra l'altro ho fatto prima tre partite poi sono stato infortunato perché sono fatto male al ginocchio tre mesi però eri un leader carismatico quindi non conta se tu eri ritornato per amore per restituire quello che avevi ricevuto no 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 conta trovare colui a cui puntare il dito se le cose vanno male perché tu sei la me la marcia io ho rinunciato a queste tre cose andando lì perché avrei finito la carriera avevo trent'anni avrei fatto quattro cinque anni l'avrei finita lì ma non mi pento si fa le cose per amore non ci si penta e lele su questa poltrona è fatto una di aspetta un attimo però prima devo fare una domanda lele quanto ti sarebbe piaciuto andare a giocare per il river plate ma te sai che ti dico una cosa tu dici una cosa perché c'era stata quasi una possibilità perché malmai da mattias che mi ha fatto innamorare del river e lui ha chiuso la carriera a river plate è stato il capitano il river è retrocesso quindi serenamente lo ricordo tifosi del bocca tranquilli dopo 110 anni di storia retrocede quindi mattia smette di giocare fa allena in serie b e la riporta in a c'era stata la possibilità ma io ti spiego anche lì perché non sono andato sai perché perché come quando tu ami e non vuoi dare se non ti senti più l'altezza non era importante come così non è importante esserci è il discorso della carica e della causa esatto ecco non è importante esserci e far vedere che sei il tesserato perché io sono stato ripagato da questo perché nel 2018 a madrid abbiamo vinto la coppa eterna certo certo e l'ho vinta da tifoso capito però c'è stato anche un approccio quindi sono contento di condividerlo comunque hai dato dei no incredibili nella tua vita cioè veramente ok quanti ne darò no prima ti dicevo su questa poltrona è fatto una diretta su instagram storica quasi 50.000 persone tipo share televisivo in cui ha parlato di una situazione importante a cui sei legato recentemente a cui eri legato recentemente in un'intervista per il messaggero hai parlato di un nuovo progetto probabilmente con dentro hai detto al cento per cento sia ventola sì sì certamente che Cassano non so se te la senti ma ti va di approfondire un po' questo tema o no guarda quello che posso dire proprio per lo stato attuale delle cose non c'è ancora nulla né di certo né di organizzato c'è semplicemente la volontà grazie alla grande richiesta di tutta la nostra gente il nostro popolo che si è sentito tradito deluso abbandonato e che ovviamente ha visto la fine del percorso precedente che si chiamava bobo tv ingiustamente in maniera totalmente sbagliata e non per volontà nostra nel senso che non è stata una cosa voluta farla terminare ma anzi c'era proprio la volontà di migliorarla e portarla come giustamente doveva andare in negli anni a venire cioè doveva proseguire inserendo cose nuove rimanendo così connessi con la gente che ci seguiva cercando di offrire questo senso di comunicazione libera e incalzante però totalmente appassionata no? quindi proprio grazie a questa richiesta che è costante e la nostra gente scome merita il nostro rientro e noi quando stiamo insieme per giocare a padel continuiamo a parlarne e fino a questo momento è un parlare diciamo così non troppo approfondito non troppo approfondito ma totalmente sentito nell'anima c'è proprio questo richiamo nostro io penso che anche la cosa secondo me carina molto corretta è proprio quella in virtù di quello che è stato stare un passo indietro e quindi io sono molto grato ad Antonio e Nicola che io diciamo ho un lavoro un po' più costante dove tocco i temi anche dell'attualità calcistica loro stanno un po' in disparte proprio per rispetto di quello che c'è stato rispetto di quello che abbiamo vissuto rispetto della nostra gente e senza cercare né di speculare né di usare il passato mettendocelo alle spalle che come se uno non vedesse l'ora di avere un'altra opportunità per fare altro non è questo il il punto non è che si scende da un carro si sale su un altro o si fanno delle altre partnership o degli accordi per cancellare con un colpo di spugna quello che è stato io credo che cancellando così quello che è stato proprio si manca di rispetto la gente e si manca di rispetto i sacrifici di chi ci ha seguito di chi vedeva le nostre dirette anche nei giorni a venire repliche di chi ci mandava i video mentre andava al lavoro mentre era con il telefono appoggiato la sentiva perché doveva guidare quindi l'ascoltava ma erano le nostre voci che rimbombavano nelle case degli italiani e andare avanti come se nulla fosse è proprio ci qualifica ci avrebbe qualificato per persone scadenti e questo non l'abbiamo voluto fare noi stiamo al nostro posto totalmente grati e però con la promessa e questo sento di sento proprio di dirlo la promessa che in un qualche modo torneremo che ci sono stati dei contatti tra di noi con altre persone per cercare di tornare nel modo in cui la nostra gente merita però devo dire di poter pazientare ancora un po' questo sì non vediamolo ora grazie no grazie a voi ne abbiamo bisogno grazie a voi a Madrid da solo mi avete fatto tanta compagnia trovate sempre con me no no assolutamente assolutamente comunque vi aspettavate questo ti aspettavi questo richiamo anche non so 50.000 persone questo quanto vale non so quanto vale però quanto vale per te che lo dici lo ripeti tanto che è tutto sì sì non mi aspettavo tanta gente mi aspettavo come ti posso dire c'era attesa c'era voglia di capire di sapere e poi dopo voglio dire si sa nel senso io non mi sottrago mai al dialogo non mi sottrago né quando devo analizzare una partita una storia ma in qualsiasi contesto quindi mi è sembrato quella poltrona di sei seduto tu il posto esatto più adeguato per parlare a tanta gente che so che si aspettava qualche spiegazione qualche risposta soprattutto si aspettava la naturalezza della conversazione praticamente era ufficialmente la fine di una cosa però ci sono state tante volte che abbiamo condiviso il durante no e anche credo di chi ci voglia la stessa onestà la dignità nel trasferire anche la fine e farlo in maniera così voglio dire esatto naturale coinvolgente è stata una bellissima soddisfazione ma ripeto è grazie proprio alla nostra community che siamo spinti a rientrare poi qua non è un caso che l'hai fatta qua insomma quindi l'ho chiamato veramente il tardo pomeriggio gli ho detto guarda che ho appena annunciato che faremo una diretta farò una diretta perché dobbiamo un po' così accompagnare il comunicato che è appena uscito ma ho detto non c'ho più niente da fare nel senso va fatto in notturna nel nostro covo nel nostro diciamo luogo sacro quindi nella crib nella crib si stanno anche le creature nuove quindi quando muore qualcosa poi rinasce qualcos'altro la crib è perfetta hai capito Cosimo vengo stasera faccio un annuncio così sbiancato capito poi l'irresponsabilità no però hai capito cioè la stima più totale è dimostrata nel gesto più semplice quindi cioè orgogliosissimo di questa cosa vieni io ti do tutto il supporto possibile cioè io ero seduto lì e lo guardavo fisso dritto fisso ti guardo sono con te fratello sempre con te nonostante tutto anche quando hai poca pazienza sempre con te ora raga è arrivato un momento topico di fine podcast che è il 10 domande il nostro format ora io vi farò una domanda a testa risposta secca più o meno una sul calcio e una sul padel vai bellissimo guarda sono molto contento allora si inizia con la classica semplice semplice partita a casa o partita allo stadio tutta la vita allo stadio tutta la vita stadio match di padel indoor o match di padel outdoor sempre indoor indoor bravi è più forte bellingham o più forte alland nel mio cuore c'è bellingham bellingham punto per tre o punto per quattro punto per quattro come vorrei fare un per tre la destra sarà più difficile la destra sarà più difficile ti volevo chiedere questo posso chiedere uscirate ma io vorrei ho questa ambizione il per tre da destra dalla linea del servizio ruotando no chiccando molto che come paf e va fuori stretto ok lungolina ok lungolina lungolina da destra ma solo avertelo chiesto è un merito che venga effettuato tanta roba fai di tanta roba perché in realtà da destra ci sono due portressi in realtà più anche da sinistra però è molto più difficile il portress lungolina anzi è fisicamente impossibile lungolina da sinistra lungolina deve avere l'angolo aperto dovresti colpire quasi così esattamente bravissimo si fa con l'angolo aperto quasi verso il centro da destra invece si può fare come hai detto tu lungolinea che esce parallelo come si dice in spagnolo parallelo se no anche diagonale però lì non va in kick perché sicuramente il kick va sai verso l'altra direzione ma piatto con l'angolo aperto che esca ma in questo qua l'ho già fatto certo era giusto quello questo l'ho già fatto questo l'ho già fatto e guarda ti do un consiglio sai cosa devi guardare sai che ci sono cinque vetri e c'è l'intersezione dei vetri che li divide sì tu guarda un pelino un pelino più a destra dell'intersezione ok quando colpisci quando finisci il colpo al contrario a destra tu con lo sguardo guarda dove vuoi tirare la palla quindi più o meno a destra dell'intersezione dell'ultimo vetro farò così e ti può aiutare vediamo poi mi presti la mano il braccio manca quella manca quella eravamo la tre alla quattro eravamo la quattro però la cinque è tosta la cinque è tosta cioè Maradona o Messi io la so già io sono troppo legato a quel coraggio che dicevamo prima di Mohamed Ali che si incarna soprattutto e anche Maradona per me Maradona Maradona Coelio Tapia o Galan e Lebron Galan e Lebron Galan e Lebron Galan e Lebron però specifico prima abbiamo parlato di Lebron ma vorrei sottolineare il gran lavoro di Galan perché Galan è un martello è un applicato è un serio è un costante quindi Galan e Lebron meglio il derby di Milano o il derby della capitale ma derby di Milano River Bocca il super classico derby di Milano vantaggi o Golden Point? Golden Point un vantaggio e poi Golden Point calcio europeo o calcio sudamericano? eh qua ci sarà ci sarà da discutere perché per me è calcio europeo tecnicamente l'europeo passionalmente non si discute nemmeno perché la passione è rioplatense quindi sudamericano ok questo è giusto giusta separazione 40 pari Golden Point rispondi te o il tuo compagno? no me la prendo la responsabilità me la prendo sempre magari sbagliando magari ci penso prima di andare a dormire ma dico sempre su di me l'importante è che il compagno mi guardi mi deve guardare perché deve sapere che io decido se lo trovo umile determinato gliela passo la responsabilità senza problema ma non deve ergersi a rispondo io no no la scelta la prendo io poi posso anche lasciargiela perché tu vivi l'arroganza l'arroganza di dire no fai su di me che è meglio no io lo guardo e dico il mio compagno mi deve guardare e deve sapere che la decisione la prendo io ma magari dico risponde lui però il pass deve passare da te perché lo sento che lui deve determinare quel punto lì mi piace ok se no ti tradisce come Nick è vero che ti tradisce troppo spesso sempre tradisce Nick un giorno sì e l'altro pure e poi bonus perché erano dieci però la bonus non posso non farvela Tupac o Biggie non riesco no sai che abbiamo parlato l'ultima volta qui di questo non riesco Tupac anch'io non ce la faccio non ce la faccio impossibile se proprio me la devi estirpare ti dico Tupac ma proprio però non è giusto non è una risposta è una mezza risposta non ce la faccio ma in effetti anche io sarei in difficoltà forse a livello di impatto mondiale ti direi Tupac sì assolutamente per gusto musicale New York sono assolutamente d'accordo e dimmi una cosa invece a livello canoro eh ti dico il flow la roba che è impressionante di Biggie secondo me è che se tu senti un pezzo oggi sembra che l'ha registrato ieri invece lui nel 97 è andato via no? è morto e quindi secondo me Biggie è più attuale cioè ho questa visione qua un pezzo di Biggie ancora ora suona tranquillamente sempre moderno sempre attuale ed è stato Revol cosa dicevamo l'altro giorno mentre appendevo quel quadro di Muhammad Ali perché io faccio il pittore ma per Lele Adani faccio anche l'appenditore il 31 mattina sono ad appendere i quadri a casa Lele Adani e c'è un documentario su Biggie e diciamo non è possibile incredibile non puoi cambiare la storia della musica adesso cambiare la storia della musica in quel modo in maniera così determinante a differenza di Tupac non essendo neanche un'icona sexy che ti aiuta anche no? a essere quell'icona venerata da tutti è veramente straordinario cioè Biggie era obeso con un problema agli occhi ed è diventato Nicola anche di stile cioè se ci pensi è incredibile no? chi ci avrebbe scommesso un euro un dollaro e invece ha cambiato la musica ma nessuno è capitato qua come negli altri atelier miei di scene surreali in cui a certo punto sentiamo quella roba mettiamo un pezzo in particolare di Notorious e ci balliamo nello studio cioè è proprio una cosa che non riusciamo a contenerci e ci rende felice Tupac questa cosa qui non me l'ha mai fatta poi per me è un idolo è un'icona per tantissime altre cose però è difficile questa è la più difficile di tutte a te è la bonus è la bonus è la bonus ultimo giochino questo più secco si pregio e difetto vi faccio vedere no diciamo di nomi si vi faccio vedere vi faccio vedere nomi e foto io vi faccio vedere la Lele ok ok dimmi secco un pregio un difetto va bene ok questo podcast mi piace grazie siete veramente avete le palle partiamo partiamo cazzo se mi piace mi piace stare qui facciamo solo nomi 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 scusami scusami un pregio e un difetto un pregio e un difetto va bene allora io vado così subito Leo Messi allora un pregio è il rapporto secondo me tra la genialità la semplicità quindi è un rapporto un genio semplice un difetto avesse quel gran genio di Messi un decimo della comunicazione di Maradona quindi un po' in comunicazione no tesimo pregio e difetto Paolo Bonolis beh il pregio il pregio il pregio principale veramente un'intelligenza nel senso più profondo cioè l'intelligenza vera quella che arriva nei posti più oscuri che quindi poi declina in sensibilità in ironia profonda è proprio veramente una di quelle persone intelligenti che mi mi arricchiscono in ogni piccolo momento quotidiano che ho la fortuna di di condividere con lui è un difetto però bisogna anche arrivarci con la carriera che ha fatto e tutto e c'è un po' c'è un cinismo ecco in Paolo che io non non condivido nel senso non ho quel trasporto cinico nel freddare una situazione c'è quel cinismo lì che a me lascia sempre un po' così però è chiaro che sono percorsi tutti diversi e l'altro l'altro l'altra cosa sulle ginocchia l'altro difetto sulle ginocchia che non ce la fanno più vado col secondo per Lele Antonio Cassano il pregio è veramente la persona più pura che abbia conosciuto proprio puro la purezza il difetto e che nel rivendicare nel seguire questa purezza perché sono poi legati no? se ci pensi non ha un minimo un minimo un minimo di barriere e non ha un minimo di attesa nel manifestare grazie a quella purezza diciamo così l'esternazione poi riferente riferita a al tema trattato cioè io penso che essere puri è un pregio ogni tanto mostrarlo ok? può richiedere una forma che ne risalti il pregio che lo possa risaltare invece lui non avendo filtri non avendo attesa proprio si mostra così come quindi non ha totalmente a zero filtri quindi molte volte qualche volta questo può diventare un difetto certo secondo nome per Simo l'hai citato prima Vittorio Sgarbi veramente veramente il pregio in tutto è affascinante ecco il pregio lui è affascinante perché? perché una cosa difficile come l'arte la fa amare a quasi tutti cioè non seguo l'arte non l'amo non sono curioso in quel campo lì lui ha quella capacità di essere indeclinato geniale però semplice riesce a incuriosire la gente e vabbè il difetto che c'ha è sicuramente ma molto di più del mio fratello la pazienza cioè veramente lui da un certo punto si disconnette dall'intelletto e diventa un animale e questo poi si ritorce contro non c'è storia terzo e ultimo per Lele Simone Fugazzotto allora il pregio è che è totalmente leale totalmente leale e sa costantemente quindi vive rispettando e onorando il valore dell'amicizia il difetto che può avere Fugazzotto che è difficile che è difficile da trovare difficile da trovare e può essere quello che ogni tanto dovrebbe lasciarmi un po' di più Pablo perché io sono il mio caro perché Pablo molte volte mette in discussione l'amore che ha per lui per l'amore che ha per me è verissimo ed inquietante e potrebbe prestarmelo qualche sera a casa perché dovremmo scambiarci delle coccole molto più profonde per farci del bene reciprocamente e ogni tanto su questa cosa è giustamente protettivo e possessivo anche perché è un tradimento cioè a Capodanno eravamo insieme Pablo non esiste cioè addirittura lui a un certo punto si siede sul divano Pablo pur di stargli vicino si mette qua sul cordolo diciamo del divano e gli fa tipo da cuscino per dire sono tuo appoggia la testa mi merito di averlo con me cioè dovrebbe ogni tanto stare da me te lo meriti è lo zio e ovviamente Simo pregio il difetto di Lele è difficile perché noi ci conosciamo da quasi dieci anni e avere un rapporto come ce l'abbiamo noi totalmente non quotidiano dalla grandezza che noi proviamo nonostante ci sia una quotidianità veramente faccio fatica a dirne uno su tutte è la sua immensa curiosità e capacità di trovare magia anche laddove non conosce bene cioè io ti dico l'esperienza che ho avuto con Lele nell'arte è incredibile Lele non conosce niente non ha studiato non ha fatto eppure empaticamente di sentimento di intelletto di curiosità arriva a dire delle cose che io per esempio non riesco sul calcio cioè non ci arrivo ma ci ho vissuto più dentro quindi veramente faccio fatica a dirne una e abbiamo detto prima la pazienza per me ma non tanto per me con me è sempre paziente stranamente però lo vedo come un limite suo in tante situazioni tra cui se ne voglio dire una la capacità di comunicazione di Lele la capacità di lettura delle situazioni meriterebbe un palcoscenico internazionale con la lingua inglese Lele potrebbe abbattere il muro dell'Italia e andare in giro per il mondo a raccontare quello che vede e quello che sente non ha minimamente la pazienza di imparare l'inglese sicuramente perché mi serve poi anche un professore voglio dire che la croce un professore adeguato cioè nel senso mi merito un professore adeguato non come quelli che ho avuto che mi scoraggiavano a fare il calciatore scusami io c'ho quell'esperienza dalla scuola certo mi scoraggiavano a fare il calciatore ma ti rendi conto ma come può uno scoraggiarti a percorrere il tuo sogno per egoismo perché voleva lui rivendicare che la materia in questione era più importante ma secondo chi? secondo chi? non lo dimentico eh non li dimentico quei tre o quattro che poi parlavano io non ero interessato a scuola è un limite capito? quindi c'ho lo spettro di quei momenti anche nelle lezioni che dovrò prendere di inglese però perché mi scoraggiavano a seguire il mio sogno perché per loro era una perdita di tempo in classico ma io do tutto me stesso certo tu dici sei arrivato in serie A ok perfetto capito? ma io davo già tutto al calcio anche lì io davo tutto al calcio non pensavo dove arrivavo io chi lo sapeva tu cosa fai? mi scoraggi dove io sto dando tutto me stesso sacrifici dei genitori e quindi ero un po' respingevo quel tipo di insegnamento di insegnamento bisogno di un altro professore dammi una mano perché quello che conta non è il traguardo ma il percorso ma il percorso è vero però posso dire una cosa legata appunto alla lingua inglese quanto è stato bello per te alla faccia di tutti gli italiani che ti hanno dato contro che sei diventato un emblema incredibile anche in Argentina porta miseria ma ti spiego il perché perché in realtà non mi davano contro erano invidiosi cioè molte volte c'è questa forma che è italiana tipica allora in Italia non ti perdonano il successo e la libertà perché se tu fai successo tu pensa se fai successo da libero cioè gli distruggi allora cosa fanno? nascondono le emozioni ok? facendoti che ti posso dire trasferendoti non l'odio ma in realtà quello lì è un travestimento perché loro sentono quelle emozioni ma non provandole e invidiandole ti riversano possiamo dire le offese questo è tipico degli haters però nessuno può fermare l'emozione la passione così come nessuno può scalfire il successo cioè il merito questi principi qua quando li ottieni voglio dire sono davanti a tutti non è un'offesa o un messaggio o una critica di gente che poi spesso non argomenta che ferma il cammino non lo puoi fermare quindi io lo vedo semplicemente come c'è stato un diciamo così un'ondata di passione che è arrivato a tutti e ha scombussolato ma questo non è di peso da me perché io ho semplicemente trasferito il messaggio degli argentini lo sai che voglio dire una cosa io volevo dico che per me è stato secondo me una sottrazione non aver potuto sentire il tuo commento dopo il rigore di Montiero esatto secondo me diventava un pezzo di storia della comunicazione moderna dello sport tra l'altro è incredibile come in 25 giorni tutti quelli mi volevano il finale tutti quelli che all'inizio ti criticavano anche quelli così dicevano ma non può essere la stessa finale se non la fa Lele giustamente dal loro punto di vista secondo me da tutti i punti di vista ma c'è anche un rispetto di un percorso e di diciamo organizzazione professionale che che aveva già stabilito chi che doveva fare la finale quindi nel senso poi secondo me a di là che è stata probabilmente la finale più più bella della storia dei mondiali io ne ho fatte tre o quattro in quel mondiale di finali con l'argentina ne ho fatte tre o quattro che non non avrebbero portato a quella quindi non posso chiederti meglio è stato un mondiale dove io lavorando in Rai i diritti gli aveva solo la Rai ci vende ci guardavano dodici quindici milioni tutte le sere è stato stupendo raccolto in una città ha durato 28 giorni e secondo me è celebrato nel modo e con il finale più epico che poteva esistere e quindi io mi reputo mi reputo e come posso dirti non ti dico che ho un credito ok ok sicuramente non sono in debito però siamo pari io non pretendevo nulla di più di quello che ho vissuto è una roba che volevo dire più un'altra e poi terminiamo scusate che tutte le collegamenti pazzesche esatto che io come ho detto prima che ho guardato Messico Argentina direttamente in Messico a Monterey ed è lì tornando l'ho visto proprio con tutti per esempio c'era Tapia c'erano tutti questi c'era Sanyo Gutierrez tutti questi strappassionati con la bandiera argentina intorno poi diciamo che non si stanno tanto simpatici argentini e messicani ed era dopo quello dopo quella partita no? e tu sei andato in Honda in Argentina e anche in Messico io ti ho visto in una stanza d'albergo te lo giuro che prima era andato con Zanetti Javier Zanetti non so che non lavorava con una a Doha in Catara lavorava in una con un un giornalista non so se è presente bello robusto pizze classico messicano per una assolutamente ok è lui esatto per una televisione per una televisione messicana esatto e tu sei andato in Honda dopo perché appunto c'era tutti i argentini di tv argentina con una ragazza una signora e io ti ho visto lì e doveva ancora e doveva ancora uscire cioè io non incredibile ci eravamo tutti insieme e ho detto è stato qualcosa di di veraviglioso e non sapevo ancora dello scan perché non avevo visto l'avevo sentito l'ha ascoltato la telecronaca poi originale poi c'era stata contro la Polonia era stata l'Argentina Polonia e quindi poi ero già tornato lì in Europa quindi no questo volevo dire era stato pazzesco veramente incredibile che nottata quella lì è una no ma vuol dire una cosa di quella parte perché perché Messi rischia cioè ragazzi la gente non può non non può dimenticare o non può non aver messo diciamo così in preventivo prima della partita quello che io adesso ricorderò cioè doveva già saperlo perché Messi se l'Argentina non vince probabilmente finisce la carriera nella nazionale argentina cioè nella selezione perché tu immaginati fuori il secondo turno cioè la seconda partita senza qualificarti ok nell'ultimo mondiale Gonia Eterna ok mito di Maradona totalmente lontano e per sempre cosa fa? fa un'altra Coppa America perché? certo capito? sarebbe finita la sua carriera contro il Messico allenato dal tata Martino che era l'idolo del padre era l'idolo del papà di Messi massimo esponente della storia del New Soul Boys il tata Martino Gerardo il tata Martino che Messi aveva contribuito a farlo diventare allenatore del Barcellona dieci anni prima fece un anno il tata favorito anche dai rapporti con Messi col padre lì lo allena e se a metà secondo me del secondo tempo due di Rosario di Maria e Messi uno non dà la palla a Messi e fa gol quindi Lionel Messi fa la respirazione bocca a bocca all'Argentina perché la la raccoglie dal nulla finisce la carriera invece lì è iniziata l'immortalità con golasso anche di Enzo Fernandez assolutamente assolutamente vabbè che ne dici i New Soul Boys con stadio intitolato a Marcelo Bielsa assolutamente certamente beh questa è la mistica rosarina però voglio dire di Maria idolo del central Messi che ha avuto la storia diciamo nella filiale legata alle giovanili del New Soul cioè sono storie molto molto argentine che proprio incidono nel quotidiano di tutti noi capito? però non si possono trascurare se vuoi approfondire così e cosa meglio di un mondiale? e cosa meglio e di più di queste figure iconiche? voglio dire non è un caso di Maria che ha sempre segnato nelle finali segna nell'ultima finale dopo aver segnato nella finalissima Wembley contro l'Italia dopo aver fatto il gol al Maracana contro il Brasile l'anno prima che aveva decretato la Coppa America cioè è un percorso troppo alto profondo è veramente letteratura degna dei voglio dire dei grandi scrittori sudamericani rioplatensi infatti ci faranno un film secondo me su quella finale comunque io continuerei a parlare 8 ore è vero però tra le cose dedicate a Marcello Bielsa c'era anche la Sala Bielsa Sala Bielsa era in via Savona 127 e la mia avevamo una stanza nel mio vecchio atelier casa studio all'epoca il quindicesimo piano un posto bellissimo e c'era la Sala Bielsa dove si entrava solo a guardare le partite di calcio ti ricordi? con eccezione fatta per un suo quadro clamoroso che è nell'altra stanza che lui praticamente ha perso anni di vita ha cambiato i connotati perché ha fatto delle notti veramente molto traumatiche e che chiaramente si vedono questi occhi della scimmia che dicono tantissime cose ti portano in diversi mondi è stata una delle mie prime interpretazioni di una sua opera d'arte è vero guardandola incantandomi davanti a questo sguardo che veramente ha tanti risvolti la sofferenza la rabbia la solitudine la ribellione mi ci trovo molto in quello sguardo infatti non è un caso che sia sempre lì io lo so che tu lo proteggi ho capito è lo sguardo gigante quegli occhi lì l'hanno sfigurato l'unico dipinto fatto nella Sala Bielsa è un dipinto che non riuscivo a gestire perché ce l'ho di là poi adesso ve lo faccio vedere ma è un sono due occhi di scimmia un primo piano belli grandi ma sono due metri totalmente invasivi e 90 ti porta via e tanto che era qua è stato qua per un annetto ma sai che è talmente forte sì sì è vero è forte il quadro e poi è forte il ricordo di quel trauma perché lui veniva a trovarmi magari la mattina noi facciamo le nostre colazioni così e mi trovava sfinito perché avevo dipinto tutta la notte quando ancora non ero padre perché adesso è un posto impensabile dipingevo era classico cenavo e poi andavo avanti fino alle 7-8 di mattina lui mi raccoglieva sfinito ed è un quadro che mi ha fatto soffrire e perché era nascita di questa idea di fare occhi e perché volevo togliere tutti i tipi di contesti possibili e immaginabili non volevo distrazione tutti i miei quadri hanno tanti elementi che ti possono portare da una parte o dall'altra lì volevo solo che lo sguardo dicesse tutto il contrario di tutto infatti ci vedi forza ma ci vedi debolezza ci vedi dolcezza ma ci vedi anche aggressività ma quella roba lì in un solo sguardo non ero mai contento perché ci vedevo qualcosa e non mancava altro e l'avrò dipinto 5-6 volte ma ti prende il cervello anche per tutte queste contraddizioni non riesci più a capire anche cos'è buono cos'è cosa hai fatto di bene e di male poi entri anche in un lupo in un vortice ipnotico che perdi la lucidità questo va detto questo ti vuoi chiedere ma ti capita anche proprio di ricominciare cioè di cancellare tutto e ricominciare per esempio quello è stato cancellato 5 volte e ridipinto da zero 5 volte tanto che dopo ti farò vedere vedi i grumi di colore perché a furia di in alcuni punti passare la pennellata si accumulava un pochino e adesso c'è il grumo perché è 5-6 livelli se uno facesse i raggi X sotto vedi 5 quadri diversi è incredibile adesso mi capita meno soprattutto perché come vedi i miei quadri sono più strutturati poi gli elementi cioè sono composti quello era un quadro selvatico selvaggio e di conseguenza era difficile da domare io direi Marco facciamo il momento golden ball e poi andiamo a godere i quadri esatto esatto allora noi abbiamo un rito finale sì ogni ospite e noi oggi siamo venuti ma che viene al podcast ci lascia una firma sulla golden ball così rimarrete con noi in eterno l'eternità quanto vorrei che Marcelo Bielsa non facesse vincesse proprio non facesse bene vincesse proprio deve assolutamente raccogliere qualcosa e sta già andando forte con il percorso delle qualificazioni però fratello con poca umiltà però si può anche dire che una volta che la firma l'artista poi diventa anche un'operata è vero cospito ma c'è una mini scimmia lì davvero ci sta siamo a posto però sai lo devi fare pure sull'altra perché sennò qua ce la litighiamo certo per un secolo vabbè palla memorabile proprio ora diventa proprio no così sul momento no questo non me lo sarei aspettato no fantastico mamma mia grazie l'occhietto piano verso l'occhio poi ci sono scabbiati sì perché quello non arriva più non arriva più beh ragazzi ce la siamo fatta una chiacchierata che dite? ti posso dire è pazzesco eh era proprio il viaggio che speravo uscesse fuori è stato proprio un viaggio prima di farlo e quindi veramente vi ringraziamo io e Marco perché quando abbiamo pensato a questo podcast e abbiamo stilato i primi nomi che ci venivano in mente io ho subito detto voi due insieme cioè era proprio il binomio che ci tenevo che ci fosse sia per la vostra amicizia sia per il paddle sia per tutta una serie di motivi che mi legano a Simo e Simo è legato a te e tu a Marco quindi si è creato questo questo vortice quindi grazie mille anche per averci ospitato qua chiediamo a voi di iscrivervi ai link sopraimpressione YouTube TikTok e Instagram e poi Marco lascio la parola a te al prossimo golden point fate rispondere il vostro compagno esatto grazie mille grazie a voi grazie per le parole grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi